Il bellini Lo andremo a preparare all'interno di un mezzotin, ossia un contenitore di metallo Il bellini è composto soltanto da due ingredienti Una purea di pesca bianca a cui abbiamo aggiunto una piccola parte di succo di lampone Aggiungiamo del giusti prosecco brut Misceliamo e versiamo direttamente dentro il bicchiere Aggiungiamo un altro top di prosecco per far crescere la schiuma Il bellini è pronto per il servizio Aggiungiamo un altro top di prosecco per far crescere la schiuma Aggiungiamo un altro top di prosecco per far crescere la schiuma